Ciao creatura, io sono Eccata e Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaI ASMR. Ciao creatura, come ho letto dal titolo oggi ti parlo di serie tv, sono serie tv che a me sono piaciute e che non conosce mai nessuno. Quando io dico a me è piaciuta tanto questa serie mi guardano come dire ma di che cosa sta parlando, ecco, sono serie che mi sono piaciute tanto e che non sono molto conosciute. Se invece fai parte del regno di CosaI probabilmente le conosci perché abbiamo i gusti simili e probabilmente le abbiamo viste entrambi, però non lo so, fammelo sapere poi nei commenti, ok? Adesso io me le sono scritte e per ricordarmele probabilmente me ne sarò scordata qualcuna, magari se vuoi dirmela nei commenti, se magari ne ho scordate alcune che magari tu conosci o no o conosciamo entrambi ma io le ho scordate, fammi scrivermi tutto nei commenti che lo sai che io ti leggo sempre o se vuoi scrivermelo su IG come preferisci. Allora, io vado in un ordine sparso di come me le sono ricordate, sono principalmente un po' su fantasmi, un po' temi horror diciamo, anche se alla fine non sono poi così horror per me, non sono serie horror, sono più serie divertenti, però come diciamo tema principale, girano intorno ai temi della morte, ecco, giustamente, a me quelle romantiche non mi piacciono, però non tutti ecco di questi, però la maggior parte sì, ho notato che sono spesso o supereroi particolari o incentrati su fantasmi, morti, demoni, così così, ma vabbè. Allora, pushing daisis, che è letteralmente spingere le margherite da sotto, cerco di darti anche una specie di trama, cercando di non spoilerarti, io ho il problema che non so fare da dire le trame perché spoilerò sempre delle cose, e quindi sto, diciamo che questo video mia, mi allena un po' anche a non spoilerare la storia, cercare di incuriosirti, basta pure farti ricordare, se l'hai visto magari molto tempo fa, perché sono spesso serie vecchie, e in questa serie c'è di, come protagonista, un pasticcere che però ha un dono speciale, speciale, quello di, con un tocco, riportare in vita le creature che possono essere sia persone che animali, le riporta in vita con un secondo tocco, le riporta alla morte eterna, cioè la cosa bella della serie per me, al di là di poi tutte le scenette romantiche, cose varie, la parte interessante per me è quando va dai cadavri di persone che succedevano degli omicidi, delle cose così, le toccava, si faceva dire qualcosa per scoprire cosa fosse successo, e poi le rifaceva morire per sempre, e così lui riusciva a risolvere il caso del perché questa persona fosse morta, cosa fosse successo, eccetera, eccetera. Bella idea, carina, secondo me, peccato, ce ne siano solo due stagioni. Ecco, di quelle che piacciono a me, spesso sono serie che poi hanno interrotto, perché probabilmente lo guardavo su lui, io la guardavo su lui, quindi vabbè, è scienze. Poi, Dead Like Me, che praticamente c'è questo protagonista, questa ragazza, che muore per un motivo veramente un po' esilarante, cioè, che dice proprio il colmo, no? È caduta una tavoletta di un water dal cielo, che non si capiva da dove si è staccata, probabilmente da un aereo, non si sa, ed è arrivata giù come un meteorite sopra di lei, è morta in questa maniera, e vabbè, c'è questa morte esilarante, diciamo, orribile, però comunque fa ridere che sia morta per una tavoletta di un bici, caduta dal cielo, vabbè, e incontra altre persone morte come lei, che le danno un compito, cioè, lei poteva continuare a vivere sulla terra, ma doveva acchiappare delle anime, e, praticamente, è un gruppo di persone che salvano le anime delle persone, più anime raccoglievano, più queste persone, queste anime che andavano, tipo, nel paradiso, e dovevano, insomma, ogni giorno hanno un nome di una persona, e devono scoprire chi è, e aiutarla a tutte quelle persone che non si potevano salvare, sono persone che quel giorno li moriranno, però loro devono fare in modo che la loro anima vada in paradiso, piuttosto che, perché c'era, tipo, come una sfida, diciamo, c'erano dei piccoli demoni che sembrano un tipo di piccoli cargoyle, non fanno paura, cioè, sono bruttini, ma sono fatti anche abbastanza male col computer, perché è una serie vecchia, e devono prendere l'anima della persona prima di questi demoni, quindi devono intendere che loro sono come, tipo, angeli che liberano queste anime, vanno in paradiso, e i demoni, invece, se li portano probabilmente all'inferno, non so, comunque, è bello perché, oltre allo scenario di questa lotta tra il bene e il male, lei che ripensa, tipo, a come è morta, quindi ha molti pensieri sulla vita, sulla morte profonda, cose così, si ricostruisce una seconda vita da morta, perché poi trova lavoro, diventa un'altra persona, con tutte le fragilità che si porta dalla vita precedente, e si vede anche, nel contempo, la famiglia di lei, che è rimasta senza di lei, e cosa succede, i cambiamenti che avvengono in questa famiglia, dopo la morte di questa ragazza, insomma, è bella, ci sono tante, vedi, tante sfaccettature, non è solo un'unica storia, oltre a tutte le storie che in ogni puntata si vedono, delle persone che loro devono andare a raccogliere le anime, insomma, bello. Poi una serie che hanno interrotto, John of Arcadia, anche a me piaceva tantissimo, una di quelle serie per ragazzi, infatti l'ho guardata nel periodo adolescenziale, ed è praticamente, anche lì, diciamo, la serie attuale, ma non così attuale, perché è vecchia, di Joanna d'Arco, e c'è questa ragazza che improvvisamente vede Dio, e lo vede in diverse forme molto simpatiche, tra cui c'è una vecchia, il Dark, che adesso si potrebbe vedere l'emo, ma all'epoca gli emo ancora non esistevano, quindi è un ragazzo gotico, Dark, e quella mi fa troppo ridere, mi è piaciuto tanto che hanno messo Dio raffigurato con un ragazzo Dark, che, cioè, boh, mi fa, io volo, ho volato quando l'ho visto la prima volta, e quella serie è molto bella, perché c'è Dio che le dice, prova la sua fede, e dice di fare delle cose che escono dalla sua comfort zone, e lei poi ogni volta che fa qualcosa che pensa che sia strana, e che dice, ma sei sicuro Dio che devo fare sta cosa? E poi dopo, ovviamente, finisce sempre bene se segue la volontà di Dio, che gli fa fare cose strane che lì per lì non hanno senso, però dopo hanno tutto, ha un senso finale, ecco. E quindi è bello, mi è piaciuto particolare. Poi arrivi in un certo punto dove spuca fuori anche una figura malvagia, che penso sia il demonio, però poi c'è questa lotta, diciamo, tra Dio e il demonio, che vogliono prendersi l'anima di John, però finisce la serie e non sono più andati avanti, e io avrei voluto vedere come continuava, ma purtroppo è stata interrotta. Poi una serie che trovo sia stata una delle serie più rilassanti che abbia mai visto in tutta la mia vita, che è Le Curiosi e Creazioni di Christine McConnell, la trovi su Netflix, ed è praticamente questa donna molto... è un misto tra una mordisia e una cosa creepy cute. Lei è sempre visita molto elegante e anche abbastanza cute, ma vive in questo castello tipo Famiglia Adams, con delle creature mezze marce, c'è un gatto tipo egiziano mummificato e un brocione mezzo marcio infoiatissimo che vuole sempre avere rapporti sessuali con qualsiasi cosa si muova, che è al posto di una amma, di una zampa, c'è una forchetta, cioè tipo molto particolare, tipo un brocione zombie che è stato ricostruito per salvargli la vita, probabilmente era stato investito, non lo so, e poi c'è un lupo mannaro e sono fatti tutti a pupazzo e brutti, cioè proprio brutti, fatti mali, ma è quello il bello. E lei vive con questi pupazzi, animati, strani, e fa delle creazioni, cioè tutta una storia comunque, perché dopo lei incontra un uomo, succedono cose, tutte cose molto surreali, strane, belle, mi è piaciuto, e nel contempo che succedono cose, lei fa delle creazioni super mega dettagliate, horror, tipo fa dei ragni di zucchero, di cioccolato, bruttissimi, ma brutti nel senso che sembrano dei veri ragni, però sono commestibili, immestibili, cioè fa tutte cose così, dei dischi, fa la sua mega casa, che è un mega castello, tipo famigliata, appunto, fa delle cose bellissime, che non mangerei, perché mi dispiacerebbe troppo, perché sono troppo belle, le fa con una semplicità, super, adesso facciamo così, sembra tipo, un programma per bambini, però per adulti, cioè non so se mi spiego, lei ha questa spontaneità così, che sembra un programma per bambini, perché ci sono dei pupazzi, così così, però sono, essendo tipo horror, e fanno discorsi da adulti, e da adulti, cioè non lo so spiegare, comunque se a me è piaciuto tantissimo, cioè io vorrei altre stagioni, altre sessi, perché quella che hanno fatto non mi basta, la sto a memoria, è bellissima, poi mi è piaciuto tanto, una serie di sfortunati eventi, che è, quello del film, ovviamente non c'è più Jim Carrey, ci sono altri attori, però mi è piaciuto tanto, adesso io non credo sia avvenito, mi piace tanto, perché a parte che mi piacciono i film, le serie con dei narratori, specialmente se narrano in rima, stile il Grinch, ok, che c'è il narratore che narra in rima, lo trovo molto particolare, e comunque è bello, perché appunto c'è questa storia, oltre che succedono le sfortune, una dietro l'altra, questi pochi ragazzi, però c'è anche, è tutta la storia dietro della, della setta, segreta che c'è dietro, con dei genitori, tutte cose, misteriose, adesso non voglio, un po' di spoilerare, comunque mi è piaciuta tanto, anche quella, non credo sia finita, e vorrei vederla tutta, solo che è su Netflix, io Netflix non ce l'ho più da un pezzo, quindi, dovrei cercarla, per altre vie, poi, una serie che mi è piaciuta tantissimo, da bambina, Relic Hunter, non so, forse perché mi piaceva l'idea, che come Xena, su Relic Hunter, c'è una protagonista donna, cazzudissima, c'era questa protagonista donna, che era una specie di, Indiana Jones, però donna, che, lei andava, a scovare, un sacco di, misteri, cose in templi, oggetti stregati, oggetti mistici, così, super, costosi, rare, robe, che, sempre, c'era, sempre una cosa, mistero, una maledizione, dietro, no, e il suo segretario, barra assistente, era un ragazzo, un po', maldestro, ecco, diciamo così, e quindi, mi piaceva perché, di solito, nei film, nelle serie, era sempre, la segretaria stupida, e il protagonista, uomo, invece, lì, aveva, i ruoli, invertiti, e quindi, era bello per quello, anche, che sì, non mi piaceva perché, era la principessa guerriera, cioè, principessa guerriera, adoro, è top, poteva essere sia una principessa, sia una guerriera, quindi, anche quello, Xena, non l'ho messo perché, è super mega famoso, e quindi, cioè, si palese che sia bello, però, è famoso, ho messo quelli un po' meno famosi, che non sento mai, nominare da nessuno, e, e quindi, Ray of Canta, era strabello, perché, oltre ad esserci avventura, combattimenti, un po' la Indiana Jones, però, era fatto appunto, con una protagonista donna, super bella, tra l'altro, ovviamente, una figacciona, super muscolosa, e, c'era sì, una, un personaggio donna, segretaria, bionda, stupidina, però, la protagonista era la donna, cazzuta, e quindi, quello era bello, e quello era importante per me, poi, un'altra serie, che, non si guardava nessuno, però, in sé, non era niente male, Ultime dal cielo, praticamente, c'era un notizio, che ogni mattina, riceveva un giornale, dove, c'erano scritte tutte le cose che sarebbero successe, per davvero, non era un giornale, che tutti potevano comprare in edicola, ma era un giornale speciale, dove, appunto, quello che c'era scritto, sarebbe successo, quel giorno lì, e quindi, lui, poteva fare in modo, scopre, insomma, che può fare in modo, di non far succedere incidenti, cose, però, appunto, tutta la puntata, si basa sulla notizia, magari, quella, non so, incidente, nella strada X, con 800 morti, detto a caso, e lui, passava, tipo, tutta la puntata, a cercare di, fermare questo incidente, per esempio, ecco, ogni volta succedevano cose diverse, ovviamente, e quello lì, a me piaceva, poi, mi è piaciuto tanto, soprattutto, per la sigla, di Angel, che era uno spin-off, di Buffy, che, secondo me, non si è guardato nessuno, perché Buffy era la serie famosa, che tutti, giustamente, abbiamo visto, perché era proprio, l'emblema degli anni 90, tutti noi adolescenti, degli anni 90, lo abbiamo visto, insieme a streghe, e poi, appunto, si è creato uno spin-off, solo con Angel, e altri personaggi, di cui credo Spike, e alcuni demoni, che, facevano parte, di Buffy, della serie Buffy, e, Ania, e, Xander, penso, sì, vabbè, insomma, alcuni personaggi di Buffy, si sono staccati, e hanno creato, una specie di serie, sui detective, ed era, appunto, Angel, la sigla, era tipo, fotonica, con sto violino, bellissima, bellissima la sigla, con il violino, io, cioè, mi ero tipo, scaricato, solo la musica, perché mi faceva un botto, questa sigla, super, gotica, e poi, alla fine, era solo, una serie, su detective, però, con i personaggi, di Buffy, dei personaggi, secondari, tipo, dei demoni, che vedevi, che avrei visto, due volte, però, non lo so, mi faceva ridere, e forse, alla fine, non era chissà cosa, sta serie, però, siccome, per me, Angel, era tipo, il ragazzo, più figo del mondo, allora, sapere, che avessero fatto, una serie, che si chiamava Angel, dove lui, era il protagonista, con questa sigla, fichissima, probabilmente, io stavo volando, solo all'idea, poi, c'era una serie, che facevano, sulla Rai, se non sbaglio, tutti odiano Chris, ed era la storia, di sto ragazzino, di colore, che, oltre ad essere, pullizzato a scuola, da altri ragazzini, di colore, o bianchi, così, veniva anche trattato, malissimo, in famiglia, e quindi, ogni volta, che succedeva qualcosa, era sempre colpa sua, lui era anche un po' odioso, a volte, devo ammettere, ecco, però, bella quella serie, mi è piaciuta, perché era, cioè, mi faceva ridere, succedevano sempre, delle sfighe, giustamente, quando io penso, alla mia vita, che succede sempre, una sfiga, dietro l'altra, che, vedo gli altri, prefettini, io, sempre, una mer, e, poi dico, vabbè, ma le storie, i film, i libri, li fanno su quelli perfettini, o li fanno su quelli sfigati, come me, e io, quindi, io sono da, io sono da libro, da film, quindi, cioè, la mia vita è più interessante, nonostante le sfighe, quindi, mi rassicuro, con queste serie, con questi film, con questi libri, perché dico, vabbè, ma, i film, i libri, non li fanno su, disse ASMR, lo fanno su cosa? ASMR, su video come le mie, vabbè, comunque, off topic, poi, mi è piaciuto tanto, però, solo la prima stagione, di Mr. Robot, Mr. Robot, la prima stagione, mi è piaciuta tantissimo, l'ho vista, proprio, tutto ad un fiato, era una storia, secondo me, interessantissima, dopo la seconda stagione, non ho capito più niente, non ho capito, letteralmente, più niente, mi ha annoiato, e mi ha, mi ha stufato, quindi, ho questo odio, amore, per Mr. Robot, perché la prima stagione, veramente, io, innamoratissima, e la seconda stagione, è delusissima, proprio, totalmente, non so, fammi sapere, cosa ne pensi, poi, mi è piaciuto, un sacco, tantissimo, ah, mi è venuta in mente un'altra, è Santa Clarita Diet, non l'ho scritto qua, ma mi è venuto un flash, che bella quella serie, quella serie anche, è stata interrotta, e non la finiranno mai, ed era bellissima, c'era, una, storia, di zombie, tipo, mi è venuta in mente, perché poi dopo ti dirò, hai zombie, per quello, e, erano zombie, c'erano sti, non so, non vorrei spoilerare, comunque, è abbastanza splatter, come serie, nonostante sia abbastanza comica, divertente, ed è vera, quella lì mi è piaciuta, veramente, tantissimo, peccato, veramente, che, l'abbiano interrotta, perché lì, ci potevano fare di tutto, come storia, perché c'era tutta una storia, che c'entrava col medioevo, con delle robe antiche, e hanno mischiato gli zombie, con cose divertenti, cioè, veramente, top, quello, era bellissimo, e, sì, peccato, che la maggior parte, delle serie, che ti sto consigliando, non abbiano un finale, quindi, resti così, li guardi, e poi dici, e quindi, frustrante, vabbè, però, vale la pena, comunque, guardarle, perché, anche solo, fino a lì, la storia è molto bella, e, ai zombie, ai zombie, mi è piaciuto tanto, c'è questa, ragazza protagonista, praticamente, se dico, faccio lo spoiler, insomma, ci sono delle persone, che, si risvegliano, con una specie di morbo, zombie, che però, questa protagonista, non so com'è, non spoilerare, lei mangiava, cervelli, cervelli, quando, mangiava cervelli, però, li faceva, cucinati, tipo, li faceva venire fame, con noodles, oppure, faceva altre ricettine, poteva sentire, solo il tabasco, le cose piccanti, quindi, faceva tutte le ricettine, con il cervello, le cose piccanti, prendeva la personalità, i ricordi, della persona, che aveva mangiato, di cui aveva mangiato, il cervello, ed erano sempre, anche lì, casi da risolvere, di omicidi, e cose strane, che succedevano, è bello, perché prendeva, anche la personalità, quindi, cambiava personalità, diventava, tipo, super timida, o una stronza, cose del genere, molto carino, anche quello, uno che non c'entra niente, con zombie, e cose varie, è community, community, mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto dall'inizio, fino alla fine, anche se le ultime stagioni, erano un po', sono state un po' lente, un po', perché mancava anche, uno dei miei, personaggi preferiti, Pierce, che è un vecchio, rompicavolo, un vecchio, che mi faceva troppo ridere, scorbutico, razzista, omofobo, le aveva tutte, però, allo stesso tempo, non potevi farne una colpa, perché era ignorante, lui alla fine cercava di, di essere bravo, però, era proprio ignorante, cioè, cioè, lui non pensava di, nella sua ignoranza, non pensava di sbagliare, di essere, cattivo, ecco, ci sono, praticamente, tanti personaggi, tra virgolette, stereotipi, che però, allo stesso tempo, andavano a ricoprire, tutti i personaggi, che ti possono essere, simpatici, e dove ti puoi rivedere, ecco, era questo gruppo di, persone, che, dovevano prendere, il diploma, in questa scuola, o laurea, forse, college, nel college, prendi la laurea, o il diploma, vabbè, non ho ancora capito, io in America, come funziona, perché noi abbiamo le medie, e le superiori, e prendi il diploma, poi fai l'università, e prendi la laurea, invece, invece, in America, non ci sono scuole medie, c'è direttamente il college, c'è, c'è liceo, forse, non lo so, comunque, vabbè, e, quindi, non capisco mai, che, se loro hanno, il diploma, quindi, se loro vanno al college, a prendere il diploma, come dovutano i superiori, o se, è una specie di università, e prendono, una laurea, non ho ancora ben capito, forse qualcuno, un giorno, me lo spiegherà, e, vabbè, e quindi, niente, c'è questo gruppo di persone, che, al di fuori, di quella scuola, non avrebbero mai, interagito, fatto amicizia, perché c'è, e quello è bello, è un po' come i corti, nella galassia, che sono tutte entità, personaggi, che, non avrebbero mai, fatto amicizia, tra di loro, se non per, quello che è successo, e, sono tutte persone, unità strane, che, sfigate, con problemi, cose così, che, appunto, o, nel, in condizioni, tra virgolette, normali, non legherebbero mai, ma, per altre condizioni, cose che succedono, diventano un gruppo, affiatato, e a me, quelle cose piacciono, tanto, un po' come il regno di Cosa, di, quello che si è creato, con la nostra community, che si è creata, nella vita di tutti i giorni, magari non legheremo mai, non ci parleremo neanche, invece poi, abbiamo invece, tante cose in comune, e, se non fosse per ASMR, non ci saremmo mai, avvicinati, e ha creato una community, e, i personaggi sono, l'avvocato, figaccione, poi c'è, la donna nera, coi figli, super cristiana, il vecchio rimbambito, il, il ragazzo di colore, che ha, che ha, alle scuole, liceo, era il figo, e poi all'università, è uno sfigato, e, poi, la secchiona, la femminista, quella tutta, che vuole fare, tutte le battaglie, battersi, fare cose, per, non so, l'ambientalista, così così, e, poi c'è lo sfigato, autistico, infatti, il mio preferito, Beth, che vive nel suo mondo, però alla fine, è quello più saggio, di tutti, no, che ha capito, un po', come funzionano le cose, però è quello più strano, e, che sto dimenticando, basta, penso di aver detto, tutte, si, sono tutti qua, personaggi, e quindi, chiunque, si può rivedere, non so, nel figaccione, nell'ostigato, nel vecchio, nell'autistico, nella ragazza, secchiona figaccione, nella ragazza, quella che, lotta per i diritti, di tutti, nella mamma, cristiana, c'è capito, chiunque, vuole vedersi, in uno di questi personaggi, e quindi, puoi, empatizzare, entrare, nella, nel vivo, della serie, ok, perché poi, basta che ti prendi, un personaggio a cuore, e tu dici, ah, io sono quello, e basta, è finito, tu sei entrato, nel sistema, della serie, e ti guardi, tutte le puntate, quindi, il nome è geniale, e non ne succedono, di tutti i colori, poi, soprattutto, a me piacciono le serie, quelle che hanno, le puntate a tema, cioè, periodo natalizio, puntate a tema natalizio, puntate a tema Halloween, eccetera, eccetera, e lo, come Uniti lo fa, e quindi, a me piacciono un sacco, fa anche, riferimento a altri film, altre serie, altre cose, quindi, cambiano, poi succedono, di quelle cose, assurde, che dici, ma che cacchio, sto guardando, e non riesci, a non guardarlo, vabbè, dico solo questo, credo sia, su Prime Video, Community, o su Netflix, su Prime Video, dovrebbe essere, poi c'è, Hannibal, vabbè, Hannibal, l'ho visto tutto, fino alla fine, alla fine, non mi è piaciuto tanto, mi è un po' deluso, però, va bene lo stesso, l'aggetto, hanno creato, una specie di storia, omosessuale, tra Hannibal, vabbè, spoiler, non so, è stata molto strana, metterci una cosa, tipo, romantica, amorosa, all'interno, che non ti aspetti, che dici, ma cosa c'entra, però, probabilmente, c'era qualcosa, dietro di psicologico, che non ho colto, e che non volevo cogliere, comunque, ogni volta che Hannibal, fa qualche ricettina, che anche se so, che è carne umana, mi fa voglia, perché te l'ho presa, talmente, tanto bene, che dici, ma io lo assaggerei, poi, Reaper, in missione per il diavolo, che facevano su, Italia 1, no, su MTV facevano, su MTV facevano, mi è noto a mente, anche un'altra serie, che facevano sempre su MTV, Kebab for breakfast, ma adesso parliamo di Reaper, qua non l'ho messo, Kebab for breakfast, vabbè, allora, Reaper, in missione per il diavolo, praticamente, c'è sto ragazzo, che ha, ha un'età, non mi ricordo che età, scopre, che i suoi genitori, avevano venduto, la sua anima, quando lui era appena nato, e quindi, si ritrova, sotto le grinfie, del diavolo, che, deve, praticamente, lavorare per il diavolo, senza poter scegliere, questa cosa, perché i suoi genitori, hanno scelto per lui, prima che lo nascesse, e non mi ricordo, per ottenere cosa, avevano venduto, la sua anima al diavolo, forse per avere un figlio, paradossalmente, sono sempre quelle cose, che fa il diavolo, nei film, quei fatti, così, che fa il diavolo, un po' di inchiappettamento, come al solito, giustamente, se non sarebbe il diavolo, e, vabbè, è il diavolo, che gli dà delle missioni, praticamente, ci sono, un sacco di, demoni, che sono fuggiti dall'inferno, e lui deve riportare, queste anime, però, ho detto, che più o meno, il mood, e le mie serie preferite, hanno, sono tutte, incentrate lì, di riprendere, queste anime, di questi demoni, e riportarle all'inferno, ovviamente, non è facile, perché lui, è un essere umano, e quindi, alla fine, riesce a incastrare, in mezzo, i suoi milioni di amici, la ragazza, che gli piace, tutta, e diventano, una squadra, chiappa, demoni, ed è molto, tutto, molto, demenziale, divertente, mi è piaciuto, parecchio, Ripper, su MTV, facevano delle chicche, tipo Scrub, facevano una volta, però Scrub, è famoso, e, Kebab for Breakfast, sempre visto su MTV, quando ancora, MTV esisteva, e, praticamente, era una famiglia, tedesca, che, una famiglia allargata, perché, la mamma, della ragazza, protagonista, che è una psicologa, si, fidanza, con, un, uomo, ehm, no, indiano, arabo, un uomo arabo, e, eh, diventano una famiglia allargata, perché, fanno vivere tutte insieme, questo uomo arabo, ha un figlio, e una figlia, e, poi, succedono un sacco di cose, perché, devono convivere, poi, questi figli, totalmente diversi, con due culture, totalmente diverse, iniziano, prima, ovviamente, tutto, una litigata, dietro l'altra, e, dopo, fanno amicizia, tant'è che, la figlia, spoiler, la figlia, resta incinta, del fratellastro, queste storie, tipo, un medico in famiglia, e, e, niente, la parte divertente, il nonno tedesco, nazista, che si ritrova in casa, questi, che per lui, sono, il, 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 il nemico, ecco, diciamo, e quindi, succedono anche lì, dei teatrini, divertenti, e razzisti, vabbè, e, quello mi è piaciuto, anche quello particolarmente, perché, la storia è diversa, dal solito, a parte gli inciucci, amorosi, però, vabbè, poi, questo, penso sia, forse, il, quello più famoso, che ho citato, cioè, Ghost Whisperer, 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 e, la storia di questa, donna, che ha dei poteri, anche lei, vede i morti, e, eh, un potere, ereditato dalla nonna, vede i morti, e, eh, le anime di questi morti, e li aiuta a passare oltre, insomma, un po' come, Death, Death by, Death Like Me, però, una persona è molto più, Death Like Me, è molto, comica, invece, Ghost Whisperer, è molto, drama, ci sono tutte storie, che ti fanno, ecco, muovere, di finali, che, oh mio Dio, lacrimuccia, lieto fine, però, anche sul triste, capito, sul, lasciandare, so che vuoi bene, quella persona, ma devi lasciarla andare, quindi, era molto drama, era molto, sentimentale, e poi, attorno a tutte queste, situazioni, che, succedono, in ogni puntata, c'è la storia, anche, della protagonista, che, succedono cose, conosce la migliore amica, succedono tante cose, che, non voglio spoilerare, lei, si sposa, eccetera, eccetera, molto romantico, molto sentimentale, a differenza di Death Like Me, che è molto, ironico, e, temenziale, poi, per dire, che, siano tutti, più o meno, lo stesso argomento, però, sono, trattati in modo, totalmente diverso, e quindi, cambia tutto, mi sfizza, allora, a me piacciono le serie, con dei supereroi, che non sono, proprio supereroi, si hanno i poteri, però, come, dovrebbe essere, nella realtà, non è che nasci, hai un superpotere, diventi subito, bravo, buono, bello, lo sai usare, perfettamente, come Smallville, Superman, Clark Kent, e, Gallelle, e, ci vuole un po', che impari, a usare il tuo superpotere, no? E, poi, non è detto, che il superpotere, vada ad una persona, brava, e, poi, non è detto, che il superpotere, per forza, vada ad una persona, degna, di averlo, ok? Proprio come, nella realtà, che, ci succedono, queste ingiustizie, che, magari, uno è strozo, cattivo, c'è i soldi, tutto, poi c'è, magari, la persona, più buona del mondo, che, vive sotto un ponte, per dire, e, mitzviz, è la storia, di, dei ragazzi, che, sono, tipo, in una comunità, che, suonano, ognuno, fa un problema, tipo, di droga, di prostituzione, di cose brutte, che sono successe, soprattutto, droga, alcolo, proprio così, e, eh, dopo un temporale, ricevono, dei superpoteri, da un fulmine, sono tutti superpoteri, un po' così, alla cazzo, che loro devono imparare, a conoscere, però, loro sono tutte persone, DM, capito, quindi, anche lì, ne succedono, di tutti i colori, poi, Deadbeat, che è sempre, eh, sullo stile, di Ripper, e, forse, anche quello, andava su MTV, non mi ricordo, però, c'è, un attore, che, faceva, interpretava, uno dei migliori amici, di Sam, protagonista di Ripper, lì, è il protagonista, di Deadbeat, non mi ricordo, i nomi degli attori, perdonami, e, praticamente, questo, anche qui, eh, si, lui vede, tipo, Ghost Whisperer, vede le anime, e le deve far passare oltre, però, in una chiave, totalmente comica, totalmente, eh, parolacce, sesso, così, così, ecco, non, è tutta, perfettino, come questo Whisperer, che è tutto, che lei era tutta impeccabile, era super, budica, tutta, tutto lo contrario, lui è un ciccione, classici ciccioni, che fanno vedere, nelle serie, che sono, vabbè, stupiti, stupiti, pensano solo a mangiare, a scureggiare, pensano solo a mangiare, a farsi le canne, e, a scureggiare, e a riprodursi, ad accoppiarsi, ecco, ecco, quindi, è una serie totalmente stupida, che, per ogni puntata, questo tema, di, lui che vede anime, che deve, far, tra virgolette, passare oltre, quest'anima, ecco, facendo, ovviamente, delle cose assurde, che solo una persona, del genere, avrebbe, tipo, avrebbe il coraggio, di fare, ultimo, ma non per importanza, ma proprio perché, è venuto in mente, alla fine, è perché uno doveva essere ultimo, per finire questo video, Doom Patrol, anche qua, allora, se sei triste, non guardarlo, se invece, sei nel mood, niente potrà distruggere il mio mood, guardalo, è la storia di anche qui, sono dei super eroi, che però, hanno, hanno un potenziale, formidabile, ma non lo sfruttano, perché sono tutti incassati, natissimi, di testa, sono tutti depressi, tutti, umani, con, umani, con dei problemi mentali, con delle paranoie, delle cose, dei disturbi, di personalità, eccetera, eccetera, è bello, perché è molto profondo, tratta temi, veramente, di psicologia profonda, e allo stesso tempo, ti fa, pensare, cavolo, magari sono anche io così, che ho dei super poteri, sarei, magari, se non stessili, a farmi 400 paranoie, magari, adesso avrei già conquistato, un universo, però non l'ho fatto, perché ho le paranoie, loro uguale, hanno del potenziale, hanno dei poteri, sovranaturali, fighissimi, e poi non concludono nulla, non combinano nulla, perché, sono tutti super imparanoiati, cioè, boh, mi è piaciuto tantissimo, perché, al di là che, anche, ti fa riflettere, delle musiche molto belle, ed è uscito da, una serie di fumetti, quindi, le storie sono, assurde, è profondo, secondo me, cioè, ha, credo sia, una delle mie serie preferite, Penny Dreadful, sì, ma ormai, è talmente, tanto conosciuto, che non sto neanche a dirlo, ma, di Don Patron, non ha sentito nessuno, che dice, la mia serie preferita, o che ne abbia parlato, in qualche video, e, ho visto, fino alla, seconda, trenta stagioni, tre ne hanno fatte, mi ricordo, perché l'ultima stagione, che è uscita, la terza, che, ossia, non c'è su, io le vedevo su Prime Video, e su Prime non c'è, è da un'altra parte, che non riesco a vedere, e quindi, sono rimasta male, perché, appunto, volevo vedere, questa altra stagione, nuova, che è uscita, già l'anno scorso, e non l'ho, non l'ho ancora potuta vedere, non so se potrò vederla, perché non so se neanche, se c'è in italiano, un peccato, veramente, perché la seconda, la prima stagione è stata bella, ma la seconda è stata ancora più bella, con l'introduzione di nuovi personaggi, anche qui ci sono dei personaggi, totalmente demenziali, e, allo stesso tempo, ti puoi rivedere, questi personaggi, c'è un personaggio, che ha, tantissime personalità, un disturbo di personalità, e ha, tipo, un centinaio di personalità, che infatti, è uno dei miei personaggi preferiti, e, ogni personalità, ha un superpotere, quindi, questa è fortissima, peccato, che lei non possa controllare, chi esce, chi, delle sue personalità, essere, quindi, c'è una lotta interna, anche di tutte queste personalità, e lei, quindi, il suo potere, non lo sa controllare, quindi, è un casino, è la più potente di tutte, e, ovviamente, non sa usare il suo potere, palese, classico, proprio, come nella vita reale, poi, c'è una, che è super, che è un'attrice, degli anni, buo, quarata, cos'è, e, anche quella, non sa usare il suo potere, e, poi, c'è uno, che è morto, che è un, omosessuale, quindi, ci sono tutte, vicende, che, all'epoca, lui, quando era ancora, un essere umano, normale, senza poteri, doveva nascondere, la sua, sessualità, il suo orientamento, sessuale, quindi, stava fingendo, di avere, una famiglia, etero, ma lui, in realtà, si vedeva di nascosto, con un uomo, insomma, tutte storie, così, poi, ce n'è uno, che era, in vita, era un mega stronzo, ed è l'attore, che ha fatto la mummia, non la mummia, cioè, ha fatto il film, la mummia, ma il protagonista, quello figaccione, e, non so, i nomi degli attori, neanche dei personaggi, non me li ricordo, Cliff, dovrebbe essere, comunque, vabbè, e ha fatto un incidente, in auto, e adesso è diventato un robot, la sua coscienza, la sua personalità, la sua, davvero, l'arma, è stata inserita, dentro a questo robot, quindi, lui, dopo, non può mangiare, non può più fare, lui era una persona, molto, terrena, che, faceva sesso, con chiunque, tradiva la moglie, così, mangiava, era un ciccione, cose del genere, tutti i suoi peccati, i sette peccati, li soddisfava tutti, e adesso, invece, essendo un robot, non può più fare, nulla di tutto ciò, madonna, che pancia di bronzo, non può fare, nulla di tutto ciò, e quindi, insomma, vabbè, e, e poi, c'è un altro, supereroe, che è, tipo, quello più riconosciuto, da tutti, come davvero, un supereroe, che è questo ragazzo, che è un po' cyborg, metà uomo, e metà cyborg, però, anche lì, c'è tutta una storia, dietro, no, cioè, io, te lo consiglio, quella serie, è molto bella, se riusciamo a trovare, la terza stagione, la vorrei vedere, e, la seconda, poi, introduce un personaggio, che è, mamma mia, mamma mia, che personaggio, cioè, bellissimo, un personaggio, bellissimo, che anche lei, ha dei superpoteri, che ovviamente, anche lei, non sa controllare, perché sono, dettati, della sua emotività, e, ma è super figo, cioè, veramente, mamma mia, che personaggio, nella terza stagione, nella seconda, scusa, e, vabbè, spero di non aver spoilerato, troppo, e, fammi sapere, se conosci, questi, queste serie, se, se ti ho incuriosita, e vorrei andare a vederle, e, se ne conosci, altre, che magari non ho citato, magari non le ho citate, perché non le conosco, perché penso, che siano talmente famose, che non c'era, bisogno di citarle, io ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, creatura,